Buongiorno, sono Gianni Fornaresio, sono qui per presentarvi il mio studio d'arte. Questo è l'ingresso. La galleria è leggermente seminterrata. L'edificio è del 1907, costruito da Piero Fenoglio, uno dei maggiori architetti Liberti, e noi ci troviamo in centro a Torino, nella zona Liberti appunto. Questo è un gabinetto nato per caso, che ho deciso di lasciare perché è simpatico. La galleria, ovvero la parte espositiva, al momento non ci sono mostre, quindi ci sono dei quadri in vendita. La superficie è di circa 60 metri quadri. Qui, in questa zona, quando ci sono le mostre, c'è il buffet. Quando non ci sono mostre, è uno spazio che usiamo per fare piccole riunioni, fotografie. È comunque uno spazio normalmente abbastanza libero. Adesso andiamo a vedere l'ufficio. Qui è l'ufficio dove noi lavoriamo. Ecco, le parenti ci sono appesi qualche quadro di artisti ai quali sono molto affezionati, tipo Aldo Mondino, tipo Piero Guccione, Marina Guccione, Bacio a Sicilia. Questo qui è il laboratorio dove c'è il torchio. Ecco, quindi qui si stampa, è calcografia. Lì ci sono inchiostri, ci sono tanti tavoli perché quando si stampa lo spazio non è mai sufficiente. Questo manifesto è della copertina, della gioconda che ho illustrato io. Qui sono delle prove che sto facendo. Questa qui sotto, sotto le plance che poi, quelle che servono per fare dei tavoli, questa è una vasca dove si bagna la carta per poi incidere. Quello che vorrei precisare è che uno studio d'arte, o perlomeno il mio, comprende anche una galleria, quindi una parte espositiva, mostre, artisti, eccetera, eccetera. Ma ha in più tutta una serie di situazioni che mi interessano e che mi rendono autonomo. Adesso andiamo dove c'è, sono dei magazzini e laboratorio. Qui sono delle librerie con un po' di libri antichi, moderni, lavoro di H, un po' di tutto. Ecco, qui c'è la troncatrice, la macchina che serve per troncare le cornici, troncare o di tagliarle. Una bella macchina perché non fa polvere. Qui c'è un magazzino dove ci sono le aste delle cornici. Non c'è molto materiale di serie perché adatto le cornici a quello che mi serve. Quindi è quello che mi serve è di cercare di fare delle cose che non abbiano tutti. Come questa cornice che praticamente andando a trovare Pedretti mi ha fatto vedere dei lavori che sta facendo e ha messo una cornice come questa. Io siccome ho prodotto dei lavori con lui, gli ho detto Antonio, io te la copio. E lui ha detto ti denuncio. Speriamo di no. Questo qui è un armadio dove c'è colori, vernici, pigmenti, attrezzatura di vario genere. che va dal trapano, flessibile, fresatrice, sotto c'è la saldatrice. Di là c'è una macchina che vernicia, c'è sabbia, carburundum, c'è un stucchi, un po' di tutto. In questo armadio ci sono dei telai di varia misura. Qui ci sono scatole, ci sono meccanismi di orologio. Questo è il bancone grande dove si lavora. Questa è una macchina che serve per assemblare le cornici. Qui ci sono i vetri, ce n'è anche uno rotto. Ecco, tutto questo per essere autonomo e di conseguenza creativo. Perché per poter fare delle cose bisogna avere la possibilità di farle. ma la base, secondo me, è poter fare dei prototipi, dei progetti in qualcosa in autonomia.